Buongiorno a tutti quanti voi, buon sabato, sabato 16 marzo 2024. Siamo nel pieno di un nuovo weekend, mi vedete qui con l'uovo di Pasqua, non è il weekend pasquale, manca ancora un po', ma è un weekend molto molto importante. Ed ecco, lo vedete alla grafica, perché 15, 16 e 17 marzo, cioè già da ieri ma fino a domani, c'è la possibilità di acquistare uno di queste uova di Pasqua e dare un contributo alla ricerca AIL. Vedete queste belle uova di Pasqua, le possiamo vedere, bellissime, tra l'altro il cioccolato piace a tutti, diciamo la verità. Le stiamo comprando, le si comprano le uova di Pasqua in questo periodo, nel periodo pasquale. Beh, comprandone una di queste, oltre alla sorpresa e oltre al cioccolato, farete davvero una buona azione. Lo lasciamo qui l'uovo di Pasqua perché, insomma, ce ne cerchiamo di ricordare, ovviamente, perché nelle piazze, anche di Cosenza e provincia, ma un po' in tutta Italia, è possibile trovare queste uova per dare una mano alla ricerca. Le uova di Pasqua dell'AIL. Ed è sempre molto, molto importante, sappiamo bene quanto sia importante dare una mano alla ricerca. Bene, le uova restano qui per ricordarcelo e noi invece entriamo nel vivo, non, o meglio, solo dopo aver salutato e ringraziato Luca Chito in regia. E oggi parliamo davvero di tanti argomenti. Sicuramente a farlo da padrone c'è un po' il calcio, lo possiamo dire, perché fra pochissimo, alle 14, il Cosenza e il Catanzaro vanno in campo per un nuovo turno del campionato di Serie B. Quindi, ovviamente, per il Cosenza è una gara importante perché ci si gioca tanto in casa della Ternana, uno spareggio salvezza che potrebbe però proiettare, come dire, in paradiso, o non è che ci vogliamo pensare laddove il Cosenza al termine di questi 90 minuti, ma sarà anche una prima per William Viali, che abbiamo sentito ieri, anche qui a prima pagina, stiamo sentendo le sue dichiarazioni da nuovo tecnico del Cosenza, vecchio nuovo tecnico del Cosenza perché per lui è un ritorno. Alle 14 il primo test, il primo Cosenza di Viali, il primo nuovo Cosenza di Viali sarà appunto di scena a Terni. Il Catanzaro invece giocherà a Brescia, sul campo del Brescia, Catanzaro quasi certo ormai della postazione playoff, ma vuole tornare a vincere dopo lo scivolone casalingo contro la Reggiana. Vedremo, insomma, seguiremo già la prima parte, i primi tempi, i primi 30, 25-30 minuti, li seguiremo, tra virgolette, in diretta, perché vi daremo gli aggiornamenti. Per quanto concerne invece gli altri argomenti che troviamo oggi sui giornali, ma vedremo anche notizie che arrivano dalla mattinata, come sempre, e allora direi subito di andare a questo punto su Gazzetta del Sud, l'edizione di Cosenza, perché l'apertura è dedicata oggi alla Fondazione Terina, quella che viene definita un grande flop, con un'interrogazione parlamentare, praticamente, IRTO porta il caso in Parlamento. Anche il Ministero chiede chiarimenti, laboratori fermi e progetti nel dimenticatoio. L'eccellenza nell'agroalimentare in Calabria diventa quindi, e rimane, o meglio, solamente sulla carta, e questa ovviamente non è una buona notizia, perché qui si parla ovviamente di spreco di risorse, e siamo, lo ricordiamo, alla Mezzia Terme, ed è quella che doveva essere un'eccellenza nel campo agroalimentare, purtroppo non ha conosciuto questa fase. Nella grande area industriale di la Mezzia Terme c'è uno scrigno, scrive Gazzetta, rimasto tale solo sulla carta. Si tratta dei laboratori della Fondazione Terina, realtà nata con l'ambizioso obiettivo di dotare la Calabria, ovviamente di un centro avanzato, stiamo parlando del settore agroalimentare, e qui di ricerca nel settore agroalimentare. Ovviamente a diversi lustri, quindi stiamo parlando di diversi anni, non si parla ovviamente di giorni, di mesi, ma stiamo parlando di qualche decina d'anno, a diversi lustri dal taglio del nastro, la missione può dirsi non riuscita. Ed altrone se un decennio, siamo al 2015, quindi davvero poco meno di dieci anni fa, si credava allo scandalo, vuol dire che più di qualcosa non è andato per il verso giusto. L'investimento era stato ingente, 15 meno di euro nel progetto Food & Life, fondi del MIUR, che evidentemente non sono stati spesi nella maniera giusta, o comunque non è stato valorizzato il tutto nella maniera giusta. Un'occasione persa, insomma, è tanto da allarmare i vertici del Ministero, che hanno chiesto lumi su quella che è un po' alla vicenda e su quanto sta avvenendo all'interno della struttura. Quindi, insomma, ci sarà, ovviamente, c'è anche un'interrogazione coparlamentare che è stata rivolta dal senatore PD Nicola Irto, al ministro dell'Università e della Ricerca, per capire quali controlli abbiano promosso, intenda promuovere il Dicaster e quale iniziativa di competenza abbia assunto, intenda assumere, riguardo all'utilizzo dei riferiti finanziamenti. Bene, questa è praticamente l'apertura di Gazzetta del Sud. Ma c'è anche un'altra notizia, che riguarda gli italiani, che spendono sempre di più per i consumi, ma i carrelli restano vuoti. Una famiglia spende per il cibo, pensate un po', 314 euro in più all'anno. E questo è un dato, tra l'altro, che riguarda, per certi versi, anche e soprattutto la provincia di Cosenza, perché sappiamo bene come Cosenza in tal senso sia stata praticamente la città nella quale, la provincia, la città nella quale gli aumenti, soprattutto in questo caso nel settore no gastronomico, siano stati i più sostanziali. Una spesa comunque sempre maggiore in tutta Italia per i consumi, mentre i carrelli della spesa restano vuoti. Inflazione sempre su livelli elevati, aumento dello 0,1% su base mensile e 0,8% su base annua, spinta ancora da prezzi alla benzina. Anche questi in calo, ma comunque molto alti al servito. La verde è appena scese sotto i 2 euro al litro. E ovviamente sappiamo bene che se aumenta il prezzo dei carburanti, apprezza il prezzo della benzina, di conseguenza aumentano i trasporti, aumentano le spese per i fornitori e quindi va a aumentare poi il prezzo nel dettaglio. E questo è una regola abbastanza semplice da capire dell'economia. Andiamo avanti poi con altre notizie. Queste arrivano dal mondo. Purtroppo abbiamo anche notizie tragiche che arrivano dall'Italia, che abbiamo già conosciuto ieri. Macron e Scholz. Putin non deve vincere a second task sulle armi a lungo raggio per Kiev. Frenata francese sull'invio di truppe all'Unione Europea. Nessuna escalation. Vi in Russia le presidenziali le opposizioni contestano con attacchi ai seggi elettorali. E poi ancora gli spari sulla folla a Gaza. Israele approva i piani per l'offensiva. Rafama riapre i negoziati. Insomma, le notizie che arrivano dai fronti Ucraina, Russia e Medio Oriente non sono assolutamente positivi. Abbiamo detto che avremmo purtroppo raccontato di notizie drammatiche anche in Italia. Ciò che è successo a Bologna non può che essere considerato davvero in maniera drammatica. Tre bimbi e la madre soffocati dal fumo. Tragedia a scatenare l'incendio. Un cortocircuito casato da una stufa. Ma allora è per il padre separato dalla moglie che non era in casa. E sono quattro persone morte. Una donna di 32 anni. I suoi tre figli. Pensate un po' a due gemellini di due anni. E una bambina di sei. Una vera e propria grande tragedia. Sapienza e Federico II. Ovviamente le università, stiamo parlando di Roma e Napoli, irrompono le proteste dell'università. No all'intolleranza. Le parole e il commento di Sergio Mattarella. Ultima notizia nazionale, diciamo internazionale, che troviamo sulle prime pagine, sulla prima pagina di Gazzetta del Sud. Poi torneremo ovviamente a parlare di ciò che accade nelle nostre province. Sorteggi a Neon, il derby, Milan-Roma e Atalanta-Liverpool. Il calcio. Tutto questo accade nei quarti di Europa League. La Fiorentina, poi insomma in Conference League. Abbiamo visto già ieri, abbiamo parlato anche della Champions League. Ma lì non ci sono squadre italiane. A proposito di squadre italiane, a proposito di calcio. Allora a questo punto, e tra l'altro su Gazzetta del Sud, fra poco vedremo anche quello che è di fatto il richiamo in prima pagina anche alla sfida del Cosenza. Stiamo cercando, se possibile, avere le formazioni ufficiali sia di Cosenza che di Catanzaro, perché dovrebbero essere arrivate. Dovrebbero esserci ecco. Allora iniziamo con quella del Cosenza, perché abbiamo la grafica della formazione. Questo è il primo Cosenza di Viale. Lo vedo anch'io per la prima volta insieme a voi. Allora la difesa a quattro, abbastanza scontata, con Gianfi a destra, Frabotta a sinistra, Camporese e Venturi. Sappiamo che ancora non è disponibile Meroni. Quindi questa è Cimino, ancora un po' a ritardo di condizione. Quindi la difesa per certi versi obbligata. E sembrerebbe essere questo un 4-2-3-1. O al massimo Antonucci e Mars sugli esterni. Quindi quasi un 4-4-2 con Praselic e Voda centrali. Poi la posizione di Florenzi è quella che ha fatto la differenza. Potrebbe essere anche un 4-3-3 con Florenzi ovviamente in posizione più offensiva rispetto ai due centrocampisti. Poi ovviamente questi sono i moduli, ma si parla al di là dei moduli. Poi l'interpretazione dei moduli. È interessante vedere Mazzocchi, perché Mazzocchi molto probabilmente farà la prima punta. Cosa che non ha mai fatto nell'era caserta, che l'ha sempre utilizzato quasi da esterno. O anche di E nei tre dietro a sostegno della punta, che poteva essere forte, poteva essere Tutino. Lo ricordiamo, Tutino è ancora assente per infortunio. Quindi probabilmente Mazzocchi gioca la prima punta e sugli esterni Marras e Antonucci con Florenzi dietro. Quindi una sorta di 4-3-3 o 4-2-3-1, molto probabilmente. Andiamo a vedere invece il Catanzaro, che gioca a Brescia. Questa l'undici che ha deciso di schierare il tecnico Vivarini. C'era qualche dubbio sulla presenza o meno di Antonini al centro della difesa, che rientra. Antonini rientra e si prende il posto al centro della difesa e gli lascia il posto Scognamillo, che spesso era stato spostato a sinistra con Veroli in panchini. Invece in questo caso Brighetti e Antonini sono i centrali. Situm a destra, Veroli a sinistra, tiene il posto ancora da Andrea al posto di Sunas e a destra. A sinistra Van de Putte, in mezzo Petriccione e Verna. I due attaccanti sono Jemmello, Il Capitano e Biasci. Questo è l'undici del Catanzaro. Allora a questo punto, siccome dalle due, dalle quattordici, quindi dalle seconda parte, prenderanno il via proprio i match, Allora anticipiamo un po' le cose, andiamo a sentire Vivarini, visto che abbiamo parlato di Catanzaro. Vivarini, che ieri abbiamo sentito Viali, presenta il match che vede il Catanzaro impegnato a Brescia. È una partita molto impegnativa, quindi dobbiamo prenderla veramente con l'attenzione giusta, perché è una squadra molto quadrata, una squadra che ha dei giocatori di livello alto per la categoria, sono ben assemblati e quindi di conseguenza c'è da lavorare. E anche l'importanza proprio della partita, perché comunque loro sicuramente ambiscono a traguardi importanti, quindi di conseguenza devono passare proprio su questa partita. Quindi da parte nostra dobbiamo sapere queste difficoltà, che oltre sotto l'aspetto tattico, tecnico, ma anche motivazionale, è una partita, diciamo, importante. Ma no, quella partita ha evidenziato proprio il nostro modo di essere, perché se io mi ricordo un primo tempo straordinario, dominato, stradominato, con due gol di bellissima fattura, non c'erano possibilità per loro di giocare, di crearci problemi. Poi invece un episodio, una respinta, insomma, una situazione del cavolo e praticamente abbiamo messo in mostra sicuramente le nostre debolezze, quindi di conseguenza ci ha fatto capire sicuramente un pochettino la nostra realtà. Quella è una sconfitta che ci brucia tanto, perché veramente una partita giocata così bene e poi perdere in quel modo lì, insomma, ci ha lasciato veramente molto amare in bocca. No, loro hanno un equilibrio di squadra acquisita proprio con Maran, hanno la capacità di non far giocare l'avversario, soprattutto nella loro metà campo, e lo fanno bene, loro preparano molto bene le partite, e quindi ci aspettiamo sicuramente dei lavori in funzione del nostro modo di essere. È un allenatore bravo, insomma, Maran riesce a preparare le partite nel modo giusto, ma la preoccupazione è che hanno anche dei giocatori di livello alto. Però, secondo me, noi abbiamo sicuramente le possibilità per metterli in difficoltà. Bene, questo era Vivarine. Stavo cercando, tra l'altro, anche le formazioni di Brescia e Ternana. Fra poco magari ve le proporremo, ma torniamo intanto su Gazzetta del Sud, proprio perché ripartiamo dalle notizie locali, poi torneremo anche sul Cosentino, perché anche qui in prima pagina il Catanzaro a Brescia per ripartire. La foto che vedete è quella di uno dei grandi protagonisti, comunque, della stagione del Catanzaro, ovvero Van de Putte, uno degli esterni, tra l'altro cercato anche da diverse squadre di Serie A. A proposito, però, di Catanzaro, restiamo su questa pagina, ma non Catanzaro Calcio, Catanzaro Città e Provincia. Parco Romani, quel degrado che divora il futuro, si complica il recupero del mega immobile. Parco Romani potrebbe essere l'emblema del declino del capoluogo, l'immobile che sarebbe dovuto diventare un parco direzionale e commerciale e in condizioni disastrose dopo anni di abbandono. A pagarne le conseguenze anche chi vi ha investito per l'acquisto di locali oggi inservibili. Questa è la condizione appunto di Parco Romani. E poi l'ok del Parlamento si ha il voto a distanza per i fuorisede già all'europea. Questa è un qualcosa che riguarda migliaia di catanzari calabresi, la pagina anche di Catanzaro ma riguarda tutti i calabresi, ed è davvero un fatto per certi versi storico e vedremo come andranno le cose ovviamente nell'esecuzione appunto di questo voto a distanza. La Mezzia Terme, convenzione fra Comune e Icom per sbloccare la costruzione del centro commerciale Borgo Antipico. E poi ancora i carrelli sono vuoti, le vedete a proposito dei centri commerciali. Andiamo a Valle Fiorita, quindi in provincia di Catanzaro, confiscati i beni per un milione all'imprenditore della Cosca Bruno. La DS ha eseguito appunto un decreto di confisca per oltre un milione nei confronti dell'imprenditore Luciano Babino, ritenuto ai vertici del clan di Valle Fiorita. L'inchiesta sul compost, il parco della Serra colpita al cuore con gli sversamenti. L'inchiesta ha svelato che vicino all'acquedotto sono state depositate 264 tonnellate di compost. E questa è la prima pagina dell'edizione di Gazzetta del Sud, edizione di Catanzaro, Crotone, Vibo Valencia e La Menzia. Abbiamo visto prima le notizie dal Cosentino. Ci torneremo fra pochissimo ovviamente su queste notizie. Andiamo però prima all'edizione di Reggio di Gazzetta del Sud, che ha la stessa apertura sulla Fondazione Terine, ma va ad approfondire altri temi. Ovviamente qui si parla molto, se ne sta parlando e ne parleremo ancora per diverse settimane, per mesi, forse per anni, del ponte sullo stretto. E allora, WeBuild, occasione storica per la Calabria e la Sicilia. Il gruppo WeBuild si ovviamente dichiara favorevole al ponte sullo stretto attraverso le parole dell'amministratore delegato Pietro Salini, che parla appunto del ponte, ma anche di altre infrastrutture. Tra l'altro ricordiamo che la WeBuild si occupa, per esempio, anche, credo di non sbagliare, se dico che si occupa anche della 106, ponte sullo stretto, ferrovia, altre infrastrutture in Calabria e Sicilia. L'amministratore delegato fa il punto, parlando di occasione storica. Intanto, sul collegamento stabile, tengono banco gli espropri e le indicazioni del Comitato Scientifico. Domani, Assemblea pubblica a Villa San Giovanni, ovviamente. Altra questione decisamente calda. Il Bergamotto avrà la DOP entro sei mesi. Le notizie queste arrivano da Reggio. C'è stato un po' di contestazione ultimamente, ne abbiamo parlato anche alla protesta davanti al Consiglio regionale dei giorni scorsi, proprio dei bergamotticoltori. L'occa del Parlamento sul vuoto a distanza, qualcosa che riguarda tutti i calabresi. Ovviamente, l'omicidio accatona il 23 novembre del 2022, quindi praticamente un anno e mezzo fa. Ucciso il cugino per dissidi familiari, Giuseppe Sicari condannato a 16 anni, con l'esclusione della premeditazione. E poi un po' di sanità. Il nuovo ospedale a Palmi, la ditta, consegna alla Regione il progetto definitivo. Dopo l'approvazione serviranno altri 80 giorni per la redazione dell'esecutivo. Una svolta dopo un iter durato 17 anni, senza che sia stata posta la prima pietra. Bova Marina, il sindaco socialista inaugura via Craxi. È stato un uomo di pace alla cerimonia. Accanto a Saverio Zavettiere, esponente socialista, anche lui la senatrice Stefania Craxi, figlia dell'ex premier, si dice morto in esilio, si legge infatti, era in Tunisia. E questa è la prima pagina di Gazzetta del Sud, edizione Regina. Sono le 13.50, quindi ci stiamo avvicinando alla pausa, ci stiamo avvicinando anche al calcio d'inizio, visto che oggi parliamo tanto di calcio, di Ternana Cosenza e Brescia Catanzaro. E a proposito, vediamo che ancora in prima pagina su Gazzetta del Sud troviamo le notizie referite al Cosenza. Ma prima parliamo della condanna di un ex dirigente comunale. Ancora su Gazzetta del Sud, ecco l'edizione di Cosenza, ecco le notizie dalla nostra provincia. Un milione di euro di danno erariali per impianti mai attivati. L'ex dirigente comunale Francesco Converso è stato condannato a pagare 1.100.000 euro per la mancata attivazione degli impianti fotovoltaici costruiti in Viale Magna Grecia e nella Città dei Ragazzi. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza. Pensate un po', 1.100.000 euro, insomma una somma abbastanza consistente. Sanitari minacciati dall'annunziata, dei familiari di un paziente, è successo nel pronto soccorso dell'annunziata, pronto soccorso pediatrico. I familiari avrebbero minacciati sanitari e fatto danni alla struttura. E poi le rapine in meno di mezz'ora nel centro di Castrovillari. Il rappresentatore solitario torna in azione mettendo a segno due colpi in 30 minuti in pieno centro. Insomma c'è anche un preoccupazione per la sicurezza. Abbiamo già parlato del voto a distanza. Andiamo a Corigliano Rossano, molto ciclista, morto a luglio. I PM contestano l'omicidio stradale al conducente dell'auto coinvolta. Carlo Laudone ha perso la vita, lo ricordiamo, 26 anni. E poi a proposito di calcio a Cosenza, a Terni riparte l'era Viali ed è Rebus sul modulo. Nuovo debutto rosso-blu per Viali. Tra l'altro abbiamo raccontato poc'anzi, abbiamo visto poc'anzi proprio la formazione del Cosenza e possiamo dire che il Rebus non è stato sciolto anche in questo caso perché dipende molto dalla posizione di Florenzi se sarà un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Tra l'altro abbiamo anche la formazione, l'avevamo anticipato prima, della Ternane. Ecco, Iannarilli fra i pali, Raimondo Pereiro, Casasola, tra l'altro Casasola, lo ricordiamo, ex Cosenza, Capuano il capitano, Sgarbi Lucchesi, Iptia Luperini e poi Amatucci e Carboni. Allenatore Roberto Breda. E allora facciamo così, andiamo a sentire anche le parole del tecnico della Ternana che presenta così la gara con il Cosenza che inizierà praticamente fra 7-8 minuti. Non lo so cosa si rappresentano all'ultima occasione perché nessuno lo sa, perché magari perdi Cosenza o pareggi nei 24 di fila, ma non perché la vedo, nel senso che siamo solo concentrati sul Cosenza, sappiamo dell'importanza della gara, sappiamo che è una gara che ha un peso specifico notevole, che al momento è la gara più importante della stagione e dobbiamo pensare solo a questo. Poi sul dopo se ne parlerà dopo, con una squadra che ha, secondo me, degli ottimi elementi, che ha cambiato tecnico, quindi con quel che comporta il cambio di un tecnico, ma con la necessità da parte nostra di essere superiori a tutte queste variabili e fare il massimo per portare a casa più punti. Per fortuna non sono due attori proprio agli antipodi, cioè se andavo a Bisoli era un pochino più difficile codificarle tutte quante, però sia Viali che Caserta hanno delle cose in comune, poi certamente con le proprie caratteristiche, con il proprio credo, e quindi però insomma abbiamo cercato di mettere dentro tutto quanto in un contesto dove anche le nostre certezze vengono sempre di più e dove a di là dell'avversario siamo noi che vogliamo fare un certo tipo di partita. Bene, questo è Breda, allenatore della Ternana, oggi Ternana Cosenza lo ricordiamo, si gioca anche Brescia-Catanzara, abbiamo il senato Vivarini, qui andiamo invece a vedere quella che è la formazione del Brescia, per completare il quadro di tutte le formazioni e lasciare la pagina sportiva. Vedete la formazione del Brescia, Avella tra i palli, poi Paghera, Bianchi, Cistana, Iallo, Galazzi, Dickman, Bisoli, il figlio appunto di Pierpaolo Bisoli, nominato poco fa da Breda e Adorni, poi Borrelli e Besaggio. Questo l'undici del Brescia che affronterà il Catanzaro. Bene, adesso lasciamo il calcio, abbiamo dato un'occhiata a tutte le prime pagine del Gazzetta del Sud, delle tre prime pagine, prima di fermarci per la nostra consueta pausa andiamo a dare un'occhiata anche al quotidiano del Sud. La prima pagina ovviamente è dedicata alla sanità, con la nuova rete ospedaliere, un piano da oltre 6.500 posti letto, si ritorna su questo argomento, dopo che era stato trattato a lungo già ieri, licenziato il documento con modifiche dei ministeri sugli ospedali calabresi. Molte conferme, cariati, c'è guerra sul Tirreno e il caso terapia intensiva pediatrica. La Calabria dovrà avere 6.558 posti letto operativa e operativi, altri 1.700 circa saranno di privati accreditati, 137 come posti letto Covid che si aggiungono al conteggio totale. I posti letto per acuti saranno complessivamente 5.396. Questo è il succo del nuovo piano di riorganizzazione ospedaliere licenziato dal commissario Occhiuto. Un documento è arrivato a un anno, la sua prima pubblicazione, con alcune rimodulazioni imposte dei ministeri. L'ultimo documento di riordine è stato firmato dal commissario Massimo Scura, non fu mai poi portato a compimento per il numero di posti letto. A oggi soltanto l'82% è stato messo in funzione, seppur con enormi carenze di personale, che sono quelle delle quali parliamo molto spesso. Omicidio mormile, altra notizia in primo piano sul quotidiano del Sud. Dopo 34 anni condannati anche i due pentiti. Fu il primo delitto della falange armata. Il fatto della vittima, ora il livello istituzionale. La madre coraggio che non si arrende all'interno delle pagine quotidiano. Trovate la storia del rapimento di Giancarlo Conocchiella. Lei è Elisabetta Piccione, la madre coraggio. Oggi incontro Mafia alla memoria delle donne, lo ricorda il quotidiano. E poi la fiera di San Giuseppe, della quale parleremo oggi, stamattina è stata la vera e propria inaugurazione, ne parliamo nel nostro telegiornale, il giornale, compie 790 anni. Pensate un po', fra dieci anni tutto va bene, ce ne saranno 800. Fu istituita nel 1234 da Federico II di Svevi. Un po' di storia. I racconti sul settimanale del 1896. Il cavalluccio di Caciocavalla ha resistito a susseguirsi delle mole, che è un po' di colore e ci sta quando parliamo di un qualcosa come questa. e poi Paola Cetrara, a proposito di ospedali, si riaccende la fiamma e abbiamo già parlato appunto della rete ospedaliere, della riorganizzazione della rete ospedaliere, di quelle che sono poi anche, ecco c'è Guerra sul Tirreno, scrive Il Quotidiano, ma sul Tirreno ovviamente ci sono anche altri ospedali e non c'è solo la provincia di Cosenza, mentre sulla fronte ionico, come accennava anche Il Quotidiano del Sud, resiste l'ospedale di Cariati e lì ci sono stati anche poi, lo ricordiamo, Praia a Mare, Trebisacce, anche sentenze del Consiglio di Stato, quindi insomma vedremo poi pian piano l'attuazione di questa nuova rete ospedaliera. Fra poco invece vedremo tanto altro, innanzitutto daremo spazio alle notizie dei siti web, quindi vedremo ciò che è accaduto in mattinata, in Calabria e in Italia, e poi ovviamente anche le notizie del giornale sul Cosenza, le altre prime pagine, pagine interne dei quotidiani, appuntamenti, insomma abbiamo tanto altro, ci fermiamo un attimo, ci vediamo fra poco. Rientriamo in studio per la seconda parte di prima pagina, sono le 14, oggi con la scenografia nuova, la scenografia delle uova di Pasqua, le ricordiamo in tutte le piazze, Cosenza, Provincia, Calabria, e c'è anche la grafica che ce lo ricorda, le uova di Pasqua dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemia, l'infome mieloma, vedete anche qui c'è la scritta, ogni uovo custodisce un sogno, aiutici a realizzarlo, mai più sogni spensati, è l'hashtag, è le piazze, le trovate sul sito internet www.ail.it. Bene, adesso metto da parte queste uova di Pasqua, le mettiamo sempre qui, per ricordarci appunto l'appuntamento con la solidarietà e anche con la bontà, con la dolcezza del cioccolato, purtroppo di notizie dolci ve ne possiamo dare davvero poche, adesso che andiamo sui siti internet, perché ho già dato un'occhiata, all'home page di Repubblica, che riporta purtroppo notizie drammatiche, iniziamo da Secondigliano, giovani fidanzati, trovati morti in un box, forse uccisi, dalle esalazioni, sprigionate dall'auto. Altra notizia drammatica a termini merese, muore cadendo alla barella in ambulanza che la riportava a casa, era appena stata curata e dimessa dall'ospedale. Don Modossola trascina una donna in un palazzo, un passante vede tutto e l'uomo viene arrestato mentre la sta violentando. Anche qui notizia drammatica, anche se con un finale diverso. I temi della politica, l'amarezza di Leoni, ovvero colui che fondò la Lega insieme a Bossi, tradita da quel cretino, ma con Salvini non parlo, è un fascista. Insomma, un po' anche di storia della Lega sulle pagine di Repubblica.it. Il congresso di Roma, la fronte dei gabbiani, il candidato Ioliane, il rischio di una resa dei conti. Meloni vede Rampelli per evitare lo scontro in Fratelli d'Italia. E poi, piccolo viaggio fra i candidati di Santoro per l'Europea e Putin fa qualcosa di importante per tutti noi. opinioni. Il conflitto in Ucraina, a proposito, le guerre spaziali partono dal basso, così Mosca acceca i GPS. Nuovi attacchi su Belgorod chiudono scuole e centri commerciali. Andiamo a dare un'occhietta invece al fattoquotidiano.it. Ucraina, promesse tradite, promesse tradite, l'escalation a tappe, Macron ottiene l'invio di armi a lungo raggio, Crosetto, le divisioni avvantaggiano Putin. Meno sbarchi dal Mediterraneo, il governo rivendica il calo e Meloni parte per fermare i profughi del Sudan, ma le rotte dei migranti si sono spostate nell'Atlantico. L'Unicef, il 31% dei bimbi sotto i due anni nel nord di Gaza, soffre di malnutrizione acuta e questi sono gli scenari della guerra. Storia di Sila a Siena per fuggire dalle bombe, una storia che racconta ilfattoquotidiano.it La stampa.it ci spostiamo a Torino, nel Valle, nel Gribaulo sarà Gianna Pentenero, l'anticirio alle elezioni regionali del Piemonte e allora l'apertura è dedicata ovviamente siamo a Torino alla politica e alle regionali del Piemonte, regionali che le prossime saranno in Basilicata ma tante altre elezioni insieme all'Europa saranno un banco di prova importante per il governo e per gli equilibri anche all'interno del centrodestra. Lei assessore lui sindaco il caso a Terraciano io costretto a dimettermi perché è diventata mamma. Meloni che dice e questa è una storia che appunto arriva da Terraciano la coppia di giovani fidanzati uccisa dal monossi in un box a Napoli siamo a Secondigliano appunto a Napoli la tragedia di Bologna Stefani tre figli morti il riscaldamento non funzionava ha cercato di salvarsi e anche qui le notizie della tragedia di Termini inerese e la violenza di Domodossola è stato un giovane di 26 anni e poi Alcaraz fuori il secondo la sfida dei fenomeni questa sera giocherà Alcaraz il nostro Sinner contro Carlos Alcaraz per la semifinale di India Wells in pali un posto in finale ma anche il posto da numero due del mondo chi vince se vince Alcaraz resta numero due del mondo se vince Sinner scala un posto in classifica e scavalca Alcaraz e diventa il nuovo numero due del mondo andiamo sul messaggero il messaggero punto it anche qui vedete qui Sinner a che ora si gioca stasera e dove della semifinale ovviamente si gioca mi pare alle 21 e 30 e poi ancora la guerra truppe nati in Ucraina anche Macron frena Tajani si rischierebbe la terza guerra mondiale l'Europa compatta armi a lungo raggio a Kiev e poi ancora il ancora secondigliano giallo a Napoli coppia di fidanzali trovati morti in un box uccisi dai gas di scarico dell'auto lo scenario Suez attacco uti danneggiati i porti italiani dimezzati i passaggi perdite per oltre 8 miliardi le nuove rotte ora puntano sul nord Europa la primavera in anticipo in questo fine settimana ci potrebbe essere qualche ultima precipitazione poi dovrebbe arrivare il bel tempo l'alta pressione ovviamente con la primavera arriva il boom di allergie e l'allarme smog la situazione delle previsioni dei prossimi giorni e poi Trieste una bomber indagine sul dna di 15 persone ricorderete una bomber gli attentati che sono partiti nel 94 sono proseguiti poi nel 2000 2001 2004 2005 insomma fino al 2005 ci sono stati attentati indagine su 15 persone a 20 anni di distanza dei fatti la prossima udienza sarà il 18 marzo streptococco infezioni record in Giappone cause sconosciute tra gli under 50 un terzo è morto e poi dimessa all'ospedale quello che è accaduto a termine rese muore cadendo dalla barella dell'ambulanza che la riportava a casa e poi una polemica c'era un boateng calciatore accusato alla madre mio figlio maltratta la donna e per la ex morta suicida non vuole prendersi le responsabilità insomma una mamma che accusa il figlio dal messaggero punto it andiamo al mattino punto it possiamo andare tornare ancora sul eccolo qui il sito web del mattino due fidanzati morti a secondigliano giustamente il mattino dedica grande spazio l'apertura siamo siamo praticamente in campagna siamo a Napoli uccisi dai casti scarico dell'auto omicidio fondale nel napoletano arrestato affiliato clan d'Alessandro e poi controlli nella movida sequestri e denunce gli 80 migranti di Lampedusa trasferiti da Catania a Napoli Conte fa tappa a Napoli lancia il reddito di cittadinanza regionale nuova proposta e poi fondi europei più vicino il patto e De Caro il mediatore con il governo Comune di Napoli ecco al bilancio rischio stangata mense e a Sidinido e poi San Giuliano su Schmidt a Firenze tutti hanno diritto di candidarsi queste le parole appunto di San Giuliano chiudiamo la rassegna stampa online passando su quicosenza.it per scoprire anche quelle che sono le notizie che arrivano dalla Calabria in mattinata ospedale di Paola regione sposta il reparto di chirurgia il comitato insorge bisogna lottare il palazzo dello sport di Casali penna delegata allo sport del comune di Cosenza dignità una struttura abbandonata da oltre un decennio e poi rapine un tabacchino armato di taglierino si rifugia su un autobus per sfuggire alla polizia e l'inaugurazione della fiera di San Giuseppe questa mattina secondo Caruso un patrimonio per la nostra città bene queste anche le notizie della mattinata attraverso le pagine dei siti web tra l'altro vi aggiorno anche sui risultati di Cosenza e Catanzaro dopo praticamente nove minuti Brescia e Catanzaro sono sullo 0 a 0 il Cosenza a Terni è sempre sullo 0 a 0 quindi non sono cambiati ancora i risultati andiamo a dare un'occhiata alle pagine interne dei quotidiani adesso torniamo in Calabria quotidiani calabresi come abbiamo visto grande attenzione viene dato dalla Gazzetta del Sud a quello che viene definito il grande spreco della Terina la fondazione Terina ovviamente parliamo di ciò che accade alla Mezzia Terme il settore agroalimentare il centro di ricerca la strumentazione è ferma da mesi un intero patrimonio tecnologico e a rischio irto interroga il ministro della ricerca sui fondi stanziati per un progetto del 2015 l'intelligenza artificiale per i comuni in difficoltà un progetto della regione abbiamo parlato ieri che ha visto coinvolta la regione anche fin Calabra e poi il voto è fuorisede a partire dalle prossime europee migliaia di calabresi teoricamente interessati ferro soddisfatta sarà possibile esprimere la propria preferenza nel capologo di regione in cui si vive ovviamente questa è per le elezioni europee poi non sappiamo se eventualmente sarà possibile per le regionali per le comunali comunque si parla in questo momento delle europee sempre su Gazzetta del Sud Bergamotto la DOP in sei mesi l'hanno dichiarato chiuto e gallo ed è l'unico marchio di tutela utile e poi videosorveglianza nelle aree più degradate in questione sicurezza nel comune di Reggio Calabria approvato all'aggiunto il progetto a 250 mila euro redatto dalla polizia municipale andiamo avanti con altre pagine la pagina sportiva della Gazzetta del Sud ovviamente qui si parla di temi nazionali il derby Milan-Roma per quanto concerne l'Europa League l'Atalanta invece trova il Liverpool la Fiorentina in Conference trova il Vittoria Pilsen e poi la vincente fra Club Rouge e Pauk di Salonico e subito in Champions invece Manchester City Real Juventus si ritira Allegri in mezzo recupera Rabiot contro il Genoa si giocherà domani a mezzogiorno oggi si gioca Monza Cagliari Udinese Torino Salernitana Lecce e Frosinone Lazio a proposito di Lazio Lazio sciocca aggredito immobile e stasera di scena Frosinone intanto a Lazio c'è l'accordo con Tudor intanto ieri sera ha già giocato il Bologna la sua gara contro l'Empoli a Empoli quindi in Toscana si è giocato ha vinto 1-0 con un gol praticamente all'ultimo secondo al terzo minuto di recupero di Fabian e mantiene una postazione in ottica Champions League molto importante intanto stava sfiorando il gol in due occasioni ha sfiorato il gol il Cosenza ma si resta sullo 0-0 per il momento la nazionale italiana Spalletti chiama Lucca Bellanova e Foloruscio questo per i test contro Venezuela ed Ecuador alcuni amichevoli in vista dell'europea e poi la vicenda del video hard imbarazzo Roma affari della procura sul primavera i due dipendenti intanto sono stati licenziati dal club e questa è anche la pagina sportiva di Gazzetta del Sud andiamo a dare un orchide invece adesso a quelle che sono le pagine anzi dovremmo andare a dare un'occhiata a quelle che sono le pagine interne del quotidiano ma prima per ordine di importanza dobbiamo andare avanti perché chi è più importante se non Anna Franchino in questo momento allora allarghiamo ecco qua ecco l'immagine di Anna Franchino la vedo eccola qua Anna Franchino è arrivata sei pronta buon pomeriggio io ti aggiorno sul fatto che il Cosenza ha sfiorato il gol per ben due volte e in attacco il Cosenza stiamo cercando di capire azione sfumata in questo momento allora cara Anna prima di parlare del Cosenza e prima di vedere io sto cercando di vedere le inquadrature anche in bassa frequenza perché oggi abbiamo una inquadratura colorata con queste uova di Pasqua meravigliose eccola qua ce la propongono erano quattro uova di Pasqua erano qui io me ne ho spostato una ma la sono avvicinata poi me la porto anche a casa e intanto raccontaci oggi cosa parleremo nel nostro Tue Giornale allora buon pomeriggio Paolo buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori bellissime queste uova dell'AIL vi invito ad andare in tutte le piazze insomma d'Italia dovunque luogo vi trovate per andare a comprare queste uova perché si dà una mano anche alla ricerca quindi è una cosa veramente importante io ti volevo dire che nel nostro telegiornale oggi tratteremo non solo di sanità perché ci sono le assunzioni da parte delle ASP per i piani proprio che riguardano l'apposito DCA che è stato approvato dal governatore commissario alla sanità della regione Calabria non solo per le aziende universitarie a Durbecco ma anche per quella di Catanzaro Cosenza Reggio e Vibo Valencia poi parleremo di città unica torneremo a parlare di città unica del progetto Cosenza rende Castro libero perché c'è anche il dibattito prosegue ma c'è anche il PD che è d'accordo su questo progetto si parlerà di mafia perché c'è stata la presentazione del libro del nuovo libro dell'ex procuratore di Catanzaro attuale procuratore di Napoli Nicola Gratteri che spiega qual è la nuova mafia come bisognerà combatterla anche attraverso i sistemi informatici poi parleremo dell'inaugurazione perché oggi è partita ufficialmente la tradizionale fiera di San Giuseppe a Cosenza sono 790 anni dalla sua nascita quindi vi faremo vedere i colori i sapori insomma di questa tradizionale fiera e poi parleremo anche di spettacolo perché c'è stato il sold out ieri sera al teatro dell'Unical per Tony Servillo che ha fatto insomma uno spettacolo straordinario fra musica insomma e teatro di questo e di tanto altro ovviamente nelle successive edizioni vi faremo vedere gol o comunque le azioni di gara non solo del Cosenza ma anche del Catanzaro quindi vi aspettiamo è bene a dire le azioni e non gol perché per il momento tutte le partite di serie B sono sullo 0-0 eccetto il Como che è in vantaggio 2-0 sul Pisa se puoi interessarti sono diciamo più per il Catanzaro come Pisa possono essere importanti in questo momento il Pisa però è una delle prime squadre a entrare nei playoff quindi se questo Cosenza che io vedo abbastanza pimpante per quel poco che riesco a vedere mentre faccio la rassegna ovviamente è abbastanza pimpante però insomma rivesta sullo 0-0 per il momento ha sfiorato il gol in più di un'occasione ah quindi Cosenza l'abbiamo visto reattivo così sembra tu sei stata anche alla conferenza di Viali ti rubo solamente un secondo prima di farti ritornare in redazione per prepararti perché oggi sarai tu in conduzione e allora ti chiedo come l'hai visto Viali carico? pronto? allora sinceramente nella conferenza stampa di così diciamo tra virgolette di presentazione perché lo conoscevamo benissimo di ripresentazione di ripresentazione William Viali l'ho visto un po' teso tra l'emozionato e il tirato in viso anche perché capiva benissimo insomma che non era facile essere di nuovo riaccolto con entusiasmo dalla piazza Rosso Blu saranno ovviamente i risultati a dare ragione a una all'altra componente vedremo cosa succederà a partire da questa partita di oggi con la Ternana comunque mi è sembrato un Viali molto pronto a prendere in mano il Cosenza in queste nove gare che restano da qui al termine della stagione vedremo cosa succederà se come ha detto anche il direttore sportivo Gemmi insomma il Cosenza vuole posizionarsi in quella fascia che è più vicina ai playoff e più lontana dai play out vedremo cosa succederà alla domanda si guarda i play off guarda i play out la risposta è da 0 a 0 perché praticamente è così tra l'altro l'unica differenza cioè la differenza che noto anche in formazione la presenza di Mazzocchi al centro dell'attacco mai utilizzato quest'anno in attacco tra l'altro poc'anzi da prima punta a colpire di testa parata dal portier non era una grande occasione devo dire che la formazione più o meno non si è discostata da quella di Fabio Cagher forse manca forte in avanti per questo dico Mazzocchi adesso che fa il centrale in attacco però ricordiamo che l'altra volta Mazzocchi era squalificato quindi non voglio però non ha mai giocato come prima punta sempre giocata sull'esterno in altro modo sempre forte o tutino esatto magari al suo posto vedremo cosa succederà ve lo racconteremo poi ovviamente grazie Anna grazie a te io ritorno sui giornali eravamo sulle pagine del quotidiano a questo punto possiamo andare a dare un'occhiata alle pagine interne del quotidiano che introducono un argomento alla quale Anna ha fatto riferimento poco anzi prima però parliamo di sanità ecco la nuova rete ospedaliere gli oltre 6.500 posti letto ma attivarli tutti sarà un processo lungo cosenza senza terapia intensiva pediatrica e chiusura del punto nascita sacro cuore e poi ancora andiamo con a Catanzaro 5 anni per chiudere la fusione il processo dell'estabilizzazione poi posti letto integrazione con Corigliano Rossano cos'è previsto nell'ospedale di Cariata il futuro delle strutture di Praia e Trebisace ecco rispettare la sentenza l'abbiamo detto poc'anzi Paola Cetraro confermato il caso delle sale operatorie e poi da 89 a 167 ambulanze ma non tutte con il medico da cardiologia alle protesi la visione sulla mezzia andiamo avanti adesso qualche altra pagina la nuova governance calabrese presentato un progetto per aiutare i comuni nelle attività amministrative per la formazione del personale in attività finanziaria e controllo di gestione poi l'inaugurazione della strada Bettino Craxi è sposata urgente la redefinizione della geografia istituzionale assumere hacker contro le mafie questo è l'argomento al quale ha fatto riferimento poc'anzi Anna Franchino ne parliamo nel nostro telegiornale stoccata al governo non si stanno facendo riforme per velocizzare i processi il procuratore Gratteri parla dell'evoluzione dell'organizzazione dei criminali sul web l'abbiamo detto ne parleremo fra poco nel corso del nostro telegiornale ma una piccola anticipazione ve la diamo sentiamo una brevissima dichiarazione di Gratteri in Vibbo o nella Locrida o nella zona del Crotonese si estrae si estrae moneta elettronica in quantità questa moneta elettronica comincia ormai ad essere usata per pagare la cocaina nella foresta amazzonica quindi possiamo dire che nell'arco di un anno un anno e mezzo c'è stata una forte accelerazione nel campo dell'informatica nel campo del dark web e questo ci preoccupa tantissimo dobbiamo correre inseguire per non rimanere troppo indietro bene questo è Nicola Gratteri ovviamente abbiamo ancora qualche altra pagina del quotidiano da mostrarvi non vi mostriamo quelle sportive di Cosenza e Catanzaro perché di fatto stanno già giocando e sono un po' superate vi mostriamo quelle che riguarda il Crotone invece che è in un momento molto particolare Crotone giochiamo da squadra Baldini alla vigilia della gara contro il Monterò si serve cuore e grande voglia contro il Laziale in porta giocherà Alex Valentini al posto di Dini e vi possiamo confermare in questo momento che sia il Catanzaro sia il Cosenza sono sullo 0 a 0 bene adesso chiudiamo la pagina sportiva chiudiamo la pagina calabrese dando conto dei due appuntamenti iniziamo andando a Casali del Manco e oggi pomeriggio alle ore 17 nella sala Giuseppe Via Fora e nella sede comunale di Casole Bruzio racconti di vita quotidiana voci volti e vicoli del mio paese di Giuseppe Salvatore con tanti interventi saluti istituzionali e relatori nel comune invece di San Vincenzo la costa la consegna del terzo premio oleario a San Sisto dei Valdesi precisamente a Palazzo Miceli oggi alle ore 18 e anche in questo caso tanti interventi istituzionali e poi le aziende che verranno premiate ricordiamo ore 18 questo pomeriggio nel comune di San Vincenzo della Costa e a San Sisto dei Valdesi Palazzo Miceli bene lasciamo adesso anche la Calabria per dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali nazionali prima di salutarci corriere della sera in partenza truppe a Kiev no dell'Italia Macron Scholz freno all'escalation e Tajani si rischia la terza guerra mondiale parole sicuramente forti Mattarella cesso il fuoco e voto in Russia attacchi arresti ai seggi bombe su almeno 20 vittime sappiamo bene come sia un voto abbastanza particolare quello in Russia e purtroppo si parla ancora della tragedia di Bologna la stufetta il rogo mamma e tre bambini muoiono in casa Lady Gucci l'eredità processa l'amica di Cella assolto invece l'avvocato che gestisce il patrimonio la Repubblica l'Unione Europea teme la guerra la minaccia di Mosca e poi parla a Crosetto sbagliati questi vertici separati fra paesi e europei il leghista Leone le sue parole il partito è fascista e Salvini ha tradito Nord e federalismo lui che ha fondato di fatto insieme a Bossi la Lega praticamente 30 anni fa Suez gli attacchi uti siamo sul messaggero danneggiano i nostri porti dimezzati i passaggi attraverso il canale perdite per oltre 8 miliardi e poi purtroppo il rogo di Bologna in casa il cortocircuito di una stufa elettrica muoiono mamma e tre bambini Basilicata il campo largo nel caos e azione tratta con il centro-destra si parla ovviamente delle elezioni in Basilicata le prossime regionali il prossimo appuntamento elettorale prima di quello del mese di giugno con regionali comunali ed europee e poi le romane in in prima pagina sul messaggero il calcio il derby di coppa e poi soprattutto immobile aggredito davanti al figlio basta ora denuncio insomma non si vive un momento facile e sereno in casa Lazio l'Italia stop a Macron rischio guerra globale questa l'apertura anche sulla stampa abbiamo pochi istanti ancora allora andiamo a vedere il tempo Basilicarese e ovviamente la questione regionale con il caos campo largo per certi versi e poi ultima prima pagina che andiamo a vedere quella di avvenire scossa all'Europa anche qui si apre sulla questione dedicata all'Europa al possibile ruolo dell'Unione Europea per fermare la guerra e poi Gaza gli spari e poi la nave altro scenario di guerra quello del Medio Oriente bene ci fermiamo qui anche per oggi e anche per questa settimana ritorniamo all'Unione 13.30 io vado via restate su 10 per il nostro telegiornale grazie buon weekend per la